Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito dal mio shop e vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlare di un caso che qualcuna di voi mi ha consigliato tra i commenti di un mio precedente video. Non conoscevo affatto questa storia e credo sia davvero interessante. In questo video vi parlo di Franco per Coco. Ci troviamo a Bari, in Puglia. È qui che inizia la nostra storia. Franco nasce il 5 marzo del 1930 ed è il secondo di tre figli. Il più grande di nome fa Vittorio, mentre il più piccolo di nome fa Giulio ed è affetto dalla sindrome di Down. Franco proviene da una famiglia moderatamente agiata. Suo padre Vincenzo è un ispettore delle ferrovie, mentre sua madre Ersevida, è una casalinga molto religiosa. La famiglia per Coco abita in via Celentano 12. È il 1943 e già all'età di 13 anni Franco dà dei problemi alla sua famiglia. Prendendo ad esempio suo fratello Vittorio, che a 18 anni viene arrestato perché è cleptomane. In questo caso Vittorio si introduce con Franco in un appartamento di Bari creando una scaletta con del fil di ferro, con cui si arrampicano sul balcone di un'abitazione, a cui rompono la finestra. Rubano dei fichi secchi e una bottiglia di spumante e vengono immediatamente beccati. Portati in caserma, il commissario capo fa una bella ramanzina ai due fratelli, spiegando poi successivamente al loro padre giunto in caserma che Franco se ne può andare, può tornare a casa, avendo solo 13 anni. Ma Vittorio negli anni ha accumulato troppi reati, troppi furti, a troppi precedenti. Due anni prima si era introdotto di notte nella segreteria della sua scuola, forzando il portone principale. Il suo bottino si era tradotto in un barometro, tre coperture in pelle di alcune poltroncine e due coppe commemorative assolutamente senza alcun valore. Era stato arrestato ma appena rilasciato si era consolato con un altro colpo nell'abitazione di un vicino in cui aveva trovato 50.000 lire in contanti. Sorpreso nuovamente dalla polizia, Vittorio si era abbarricato in uno sgabuzzino, minacciando di suicidarsi con l'anilina, per poi cambiare idea. Aveva dunque scritto una malinconica lettera ai suoi genitori, avvisandoli che la stessa sera sarebbe partito con una nave per l'Africa settentrionale. Inutile dirvi che il suo viaggio in Africa settentrionale si era dimostrato un ennesimo blef. Vittorio non si era mai mosso da vari, poi ecco che era tornato davanti al maresciallo, questa volta in compagnia del suo fratellino Franco. Vittorio a questo punto viene condannato a otto anni di carcere, anni che puntualmente continuano ad aumentare, considerando che Vittorio cerca in mille modi di evadere dal carcere senza mai riuscirci. Quando Vincenzo va a prendere suo figlio Franco alla stazione di polizia, il commissario gli chiede se per caso vuole vedere anche Vittorio, ma Vincenzo fa no con la testa, prende per mano Franco e se ne va. È così che funziona in quegli anni e nella famiglia per Coco. I problemi bisogna nasconderli, celarli agli occhi della gente. In famiglia e me è chiaro che ci siano diversi problemi. Infatti la madre di Franco, resevida, ha dei problemi di nervi, ma soprattutto soffre spesso di crisi depressive. Poi c'è Giulio che, come già vi ho detto, ha la sindrome di Down. I suoi genitori gli vogliono molto bene, ma anche in questo caso, di Giulio non si parla mai. Giulio non esce mai di casa. Giulio, per loro, è una disgrazia. È il più piccolo della famiglia ed è molto legato a Franco. Ogni volta che lo vede gli chiede di giocare con lui a guardie ladri, ma Franco quasi finge che non esista. Non sopporta la diversità di suo fratello e non sopporta neanche la sua ricerca instancabile del gioco. Arriviamo al 1947, Franco ormai ha 17 anni, mentre Giulio ne ha 12. Franco, già in questo periodo, ogni mattina, quando si sveglia, pensa che non vorrebbe incontrare nessuno. Né sua madre, né suo padre, né suo fratello Giulio. È estate e Franco ha frequentato l'anno scolastico al liceo scientifico Scacchi di Bari, dove è stato rimandato in matematica, latino, storia e biologia. In realtà Franco non è uno scansafatiche, studia ed è alquanto intelligente, ma spesso viene investito da dei terribili mal di testa, giramenti di testa, annebbiamenti della vista. E queste non sono scuse. Franco ha davvero questi problemi, ha davvero questi sintomi. A settembre Franco decide di non tornare a scuola, quindi si ritira e alla soglia dei 18 anni la vita di Franco è alquanto monotona. Scorre tra le pressioni dei suoi genitori, delusi dal suo rendimento scolastico e le visite a suo fratello Vittorio, presso la casa circondariale di Bari, in Corso Sicilia. Ogni volta che Franco va a trovare suo fratello, gli porta dei pacchetti di sigarette e della biancheria pulita, mentre il fratello gli dà i pochi soldi che guadagna in prigione. Franco in questo periodo inizia a frequentare una casa chiusa che si trova in via Marchese di Montrone, dove può intrattenersi con diverse passeggiatrici. È proprio qui che Franco si innamora perdutamente a prima vista di una ragazza arrivata da poco. Si chiama Maria Panebianco. I due si appartano in una camera, ma Franco non consuma alcun rapporto con lei, anzi la coccola, la carezza, le sussurra paroline dolci. Ed è così che Franco inizia a stare con Maria sempre più spesso, passando più tempo con lei che a casa con la sua famiglia. I due si dicono anche ti amo, ma purtroppo questa storia d'amore viene interrotta nel peggiore dei modi. Maria dice a Franco che sua madre è molto malata e ha solo lei, quindi deve tornare a casa sua, a Napoli, per starle vicino durante i suoi ultimi momenti di vita. I due, per quanto si facciano mille promesse di mantenersi in contatto, non si rivedranno più. E Franco penserà a Maria per davvero moltissimo tempo. Arriviamo al 1948, quando Franco si lamenta più volte con i suoi genitori per i loro comportamenti a dir poco oppressivi. Suo fratello maggiore è in carcere, suo fratello minore è malato. Sostiene dunque di sentirsi l'unico normale della famiglia. Inizia anche ad essere soprannominato Franco il Turco dai suoi amici e dai suoi vicini di casa. A causa dei suoi comportamenti indecifrabili è apparentemente privi di senso. E infatti Franco ha un carattere a dir poco volubile, ha spesso pensieri al quanto tristi, a volte saluta tutti ed è solare, altre volte non guarda assolutamente in faccia a nessuno. Una sera Franco, come al solito, cerca di uscire di casa senza neanche salutare i suoi genitori, per evitare domande ovviamente, ma sua madre lo blocca e gli chiede dove sia diretto. Franco in tasca ha una spilletta d'oro di sua madre che intende vendere per raccimolare un po' di soldi. Il ragazzo quindi con disinvoltura si appoggia al muro accanto all'entrata e dice a sua madre che vuole andare al cinema. E sua madre che fa, chiaramente gli urla addosso, gli dice che non c'è nulla da festeggiare, quindi è inutile che vada al cinema, è uno scansafatiche, non va assolutamente bene a scuola. La donna conclude dicendo a Franco, per favore, non uscire stasera. Franco si infuria e dice ai suoi genitori che non possono appesantirgli la vita così. Non ha colpa se Vittorio è un cleptomane. Franco infatti continua dicendo Avete sentito gli psichiatri? No, ha avuto ben tre diagnosi di semi-infermità mentale. Ruba, sì, ma ruba cose inutili. Mentre Giulio, Giulio è fatto così ed io non posso vivere con l'incubo di dover giocare a guardie e ladri a 18 anni. A Ersevida si riempiono gli occhi di lacrime. Dice a Franco di smetterla. Ma Franco in tutta risposta dice Ma smettetela voi piuttosto, io non ce la faccio più. Prende ed esce di casa. Vende la spilletta che ha rubato a sua madre e se ne sta via per circa un mese. Decide di partire per Como dove poi prende un autobus diretto a Colico e rimane in una pensione del posto per circa dieci giorni. In quei dieci giorni Franco seduce una cameriera Le racconta di essere un calciatore pieno di soldi e quella cameriera ci crede. Crede a tutte le palle che le racconta Franco. Poi, un giorno, il ragazzo riesce ad entrare nella stanza di un rappresentante di vini straniero. Giruba dei soldi, più precisamente dei dollari, e poi scappa. Sale su un treno per Milano. Franco, peraltro, è pure triste perché ora se ne deve andare. E non può raccontare tutte le sue panzane che si era inventato alla cameriera. Infatti voleva dirle che era previsto il ritiro della squadra. Le avrebbe promesso di inviarle i biglietti per la prima partita del campionato per poi dileguarsi. Insomma, lui voleva concludere la sua storia, la sua palla colossale, ma ahimè non ha avuto modo di farlo. Franco a questo punto, come già vi ho detto, decide di spostarsi da Colico a Milano per cambiare i soldi rubati da dollari in lire. Fortuna vuole che in treno riesca a fare amicizia con un ragazzo di Foggia che lo porta nella sua banca per farci cambiare i soldi. Una volta arrivato a Milano, Franco però ha un mancamento. La testa gli gira, gli fa male e gli esce anche sangue dal naso. Quel ragazzo di Foggia è un veterinario e gli dice che questi potrebbero essere i sintomi di un esaurimento nervoso. Franco rimane per 13 giorni a Milano in una pensione. Frequenta tutte le sere le case chiuse della città e si prende pure la sifilide. Il ragazzo che Franco ha conosciuto sul treno originario di Foggia, pochi giorni dopo si sposta a Colico e viene a sapere che un uomo ha rubato 35 dollari. Dalla descrizione del ladro capisce che si tratta del ragazzo che ha conosciuto sul treno per Milano. L'uomo quindi fornisce una descrizione di Franco dicendo per l'appunto di averlo incontrato a Milano. E in effetti Franco è lì che viene individuato. È sdraiato su dei binari. Un lavoratore delle ferrovie gli chiede che diavolo ci faccia lì e lui sostiene che ha intenzione di suicidarsi proprio in quel modo, aspettando quindi che un treno lo investa. Il lavoratore delle ferrovie lo obbliga ad alzarsi. A questo punto Franco viene individuato dalle forze dell'ordine, portato in una stanza e riconosciuto grazie alla denuncia arrivata da Colico a Milano. Viene dunque chiamato suo padre Vincenzo e Franco viene condannato a 5 mesi di reclusione e a pagare una multa oltre a restituire le 23.000 lire rubate. Vincenzo, il padre di Franco, paga la multa all'istante e il giudice annulla la pena considerando la difficile situazione in cui versa la famiglia. Quindi cancella Franco per cocco dal casellario giudiziario. Una volta tornato da Milano, Franco si fa visitare dal suo medico di famiglia, il quale gli conferma che ha contratto la sifilide, che avrebbe dovuto curare con delle iniezioni di bromo arsegnoso. Ma non è finita qui, perché effettivamente il medico dice a Franco che sì, soffre di un esaurimento nervoso, è chiaro. E quindi non deve fare sforzi fisici e mentali. A questo punto il medico decide di parlare con Vincenzo, il padre di Franco, in privato, consigliandogli di allontanare Giulio per un periodo, proprio per evitare che lo stressi. Così il 7 settembre del 1948, Giulio viene prelevato da casa da due infermieri, per poi essere internato nel manicomio statale di Bisceglie. Esce dal manicomio il 31 gennaio del 1950. Mentre Giulio non è a casa, Franco in effetti ha dei miglioramenti. Si iscrive nuovamente al liceo scientifico Scacchi e ha un discreto rendimento. Ogni lunedì va a trovare suo fratello Vittorio in carcere e a quanto pare i suoi sintomi sono migliorati. Un giorno però Franco picchia un suo compagno che l'ha provocato seguendolo fin sotto casa e guadagnandosi a questo punto il soprannome di Franco il Truce. Nel 1950 supera l'esame di maturità con un punteggio di 45 su 60. L'esame di maturità però per Franco non è affatto una passeggiata. Infatti ha uno dei suoi attacchi nervosi. Inizia a sudare, gli gira la testa, gli si annebbia la vista e purtroppo questi problemi di salute non vengono mai presi sul serio. Nell'estate del 1950 Giulio è già tornato a casa da circa 5 mesi ma il manicomio in cui è stato l'ha segnato davvero profondamente. Giulio ora non vuole più giocare a guardie ladri. È diventato taciturno e se parla con qualcuno lo fa da solo. O con una piantina di gerani che sua madre tiene sul balcone. A settembre i forti mal di testa tornano a colpire Franco sempre più spesso. Si fa quindi prescrivere altrettanti medicinali dal medico di famiglia che però questa volta non sortiscono alcun effetto. I suoi dolori continuano a peggiorare. Franco a questo punto decide di iscriversi alla facoltà di ingegneria dove riesce a passare l'esame di disegno con 26 e fa amicizia con Vincenzo Bellomo che è figlio di un ingegnere e con Massimo Boccasile. Arriviamo al 1951 quando Franco si fidanza con Tina Tezzi sorella della fidanzata di Vincenzo Bellomo. In questo periodo Franco si lamenta davvero tantissimo dei suoi genitori. Non li sopporta più. Arriva a dire a Vincenzo che li odia. Le condizioni di salute di Franco intanto non fanno altro che peggiorare inesorabilmente. I suoi mal di testa, i suoi giramenti di testa sono sempre più pressanti e fastidiosi. Nel giugno del 1951 viene bocciato all'esame di fisica poi a quello di chimica e anche a quello di mineralogia. A novembre dello stesso anno Franco riceve la lettera dell'esercito e quindi parte per la scuola di ufficiale di Cromons in provincia di Gorizia in Friuli, Venezia Giulia. Al test d'ammissione Franco arriva primo. Finalmente riesce ad ottenere un risultato di cui va orgoglioso. È fierissimo di essere il primo. Peccato che venga escluso per i suoi problemi di salute, per l'altezza scarsa, per il furto dei dollari a colico e infine è più grande rispetto agli altri allievi. Quindi passa il corso di addestramento marescialli della caserma Giulia. La prima fase dell'addestramento dura 45 giorni. Durante questi 45 giorni scrive e invia due cartoline a Tina Tezzi, la sua fidanzata. Il 4 gennaio del 1952 parte per Spoleto, un comune italiano nella provincia di Perugia, in Umbria, con il resto del contingente per la seconda fase dell'addestramento. Qui conosce una ragazza, figlia del proprietario di un bar. Franco vuole passare la notte con lei ma ha bisogno di una licenza per avere il giorno libero. Ruba così la licenza di un suo compagno e copia la firma del maresciallo che le aveva concessa. Infine ruba un foglio bianco di licenza per compilarlo lui stesso. Ovviamente viene scoperto, espulso dal corso e congedato alla fine del servizio militare. Rientra a Bari sempre nel 1952 e decide di iscriversi alla facoltà di economia e commercio ma i suoi mal di testa continuano a peggiorare. Gli vengono prescritte sempre le stesse cure che, come già vi ho detto, non funzionano più da anni. Suo padre Vincenzo, ormai in pensione, inizia a farlo lavorare con lui ad alcuni progetti di elettrificazione della linea Bari-Bologna. Franco non sostiene mai neanche un esame di economia e commercio e nel 1954 lascia la facoltà. Continua a lamentarsi con l'amico Massimo Boccasile della sua famiglia. Franco, con l'aiuto di Massimo, convince i suoi genitori a cambiare nuovamente facoltà. Vuole studiare agraria e in effetti si iscrive il 30 dicembre del 1954. Al primo esame di agraria, quello di zoologia generale, prende 19 su 30. Viene anche eletto rappresentante degli studenti, ma viene bocciato all'esame di analisi matematica. Franco in questo periodo non va più spesso a trovare Vittorio in carcere, ma dopo tre mesi torna da lui. Sua madre, dunque, che fa? Scrive una lettera a Vittorio in cui gli chiede di ricordare a Franco tutte le aspettative che la famiglia ha su di lui e di rimproverargli le delusioni che sta arrecando. Vittorio quindi incontra Franco, gli fa una ramanzina, ma Franco neanche gli risponde allo sguardo perso nel vuoto. Vittorio si preoccupa, gli chiede se va tutto bene e Franco gli risponde io non ce la faccio più, davvero, un giorno o l'altro la farò finita. Vittorio a questo punto capisce il momento di seria difficoltà che sta vivendo suo fratello, quindi risponde alla lettera che aveva ricevuto da sua madre dicendole di smetterla di esasperare Franco, perché anche lui ha dei problemi e sono alquanto evidenti. Il 7 febbraio del 1956 Franco passa l'esame di matematica con 18, trascorre alcuni pomeriggi a studiare con Guido Bufano, un suo compagno di corso e altri colleghi. Un giorno sono a casa di Guido tutti insieme per studiare. C'è anche Franco che ahimè viene colpito da uno dei suoi attacchi. La testa gli scoppia, sente le voci dei suoi colleghi ovattate, inizia a sudare freddo, deve quindi alzarsi dal tavolo in cui sta studiando per sdraiarsi sul divano e riprendersi un attimo. Franco a questo punto si guadagna il soprannome di Franco l'esaurito. Molto carini questi colleghi comunque. il 21 maggio del 1956 Franco viene respinto all'esame di anatomia e per lui questa non è una sorpresa. Mentre studiava per questo esame si era reso conto che non riusciva assolutamente a ripetere i concetti che leggeva. Intanto la sua fidanzata Tina vorrebbe andare domenica 27 maggio a fare una gita sul Gargano così Franco va ad affittare una macchina prenotandola per la mattina del 27 maggio e per l'esattezza va ad affittare questa macchina da un amico di Massimo Boccasile. Arriviamo al 26 maggio Franco quella mattina non si alza presto come è solito fare di solito alle 7 è già in piedi bensì rimane sdraiato sul letto a poltrire. Ad un certo punto si alza si siede sul letto e si rende conto che sono già passate le 9 del mattino di conseguenza sua madre sicuramente è già uscita per andare al mercato. Franco quindi si alza va in cucina e si prepara un caffè poi esce di casa e come al solito va in giro a bighellonare. La sera come al solito si mette a tavola per la cena con tutta la sua famiglia nel piatto ha un pezzo di pollo delle patate e un'insalata di pomodori. La madre di Franco inizia immediatamente ad attaccarlo dicendogli che non riesce neanche a dar loro una gioia una misera gioia. Franco non ha una reazione aggressiva abbassa la testa guardando il piatto si sente in colpa sua madre a questo punto rincara la dose dicendogli bravo bravo guarda il piatto guarda quel pollo che non ti meriti affatto Franco sei l'unico vero fallimento di tutta la famiglia lo sai sì perché tu non hai scuse non hai problemi come Giulio né sei malato come Vittorio allora sei doppiamente colpevole sei un vigliacco anzi no Franco tu non sei proprio niente Franco a questo punto sempre a testa bassa mormora sì è vero io non sono niente mi dispiace di essere una delusione per voi tantissimo si alza la tavola e lentamente raggiunge la sua camera Franco non prova emozioni non piange non ride rimane lì al buio mentre sente i suoi genitori discutere in cucina ma non è affatto interessata alla questione distoglie velocemente l'attenzione su quei suoni su quelle parole e si concentra sul non pensare a nulla tavola rasa vuoto totale il nulla assoluto mezz'ora dopo esce nuovamente dalla camera perché Giulio che condivide la camera con lui ha sonno e vuole andare a letto a dormire Franco a questo punto va nello studio di suo padre dato che gli ha promesso di aiutarlo con i lucidi della linea ferroviaria Bari-Bologna Vincenzo fuma una sigaretta nel suo studio illuminato solo dalla pallida luce del lume di Porcellana e quando vede Franco apparirgli davanti strolla le spalle e dice quella tua madre è fatta così se non dice una scemenza ogni tanto non è contenta ma mica le pensa quelle cose Franco tu non ci devi far caso Franco annuisce si sforza di sorridere e poi si avvicina al tavolo scrutando tutti i punti che suo padre ha fissato su quella carta quasi trasparente che corrispondono alle possibili stazioni da installare per rendere la linea elettricamente autonoma Vincenzo però lo interrompe e gli dice figliolo vai a dormire è tardi ci pensiamo domani che è domenica Franco ribatte dicendo a suo padre vai tu a dormire papà io devo stare qui a ripetere almeno fino alle undici e mezza anatomia Vincenzo annuisce dalla buonanotte al figlio dandogli una piccola carezza sulla testa a mezzanotte Franco non ha neanche iniziato a sfogliare la sua dispensa di anatomia non si è proprio mosso rimane pietrificato fino allo scoccare della mezzanotte esce quindi dallo studio di suo padre e va in cucina per bere qualcosa un po' d'acqua apre il mobile per recuperare un bicchiere e si trova davanti una bottiglia di cognac Franco ama il cognac e ogni volta che ha delle crisi o non sta bene appena si riprende un attimo è solito ubriacarsi e in effetti fa la stessa cosa anche quella sera si ubriaca e inizia a provare un fiume di emozioni negative che non riesce affatto a gestire sente di non essere più nulla sente di aver perso anche la sua identità sente di essere un corpo e basta un contenitore di paure Franco ha paura di deludere chi lo ama ha paura di deludere Tina ha paura di finire a chiedere l'elemosina perché non sa far nulla Franco continua a bere in trans e da sconfitto non ha voglia di reagire alle sue crisi nervose le sue paturnie agli annebbiamenti della vista e agli svenimenti non ce la fa più si chiede cosa farà da grande ha 26 anni e ancora non ha concluso assolutamente nulla Franco continua a bere e di quel cognac ne beve mezza bottiglia poi barcolla verso la cucina e distinto afferra un grosso coltellaccio lo prende lo fissa ci si specchia poi di scatto lo pianta nel tagliere che sua madre usa per affettare salumi e ortaggi e rimane a guardare la lama che trasmette la vibrazione al manico ci giocherella facendolo vibrare ancora un po' poi di colpo lo estrae si dirige in camera sua si infila il pigiama facendo attenzione a non svegliare Giulio prende il coltello che aveva appoggiato sulla cassettiera e scalzo si dirige verso la camera dei suoi genitori apre quindi la porta della loro camera e scivola nella stanza fissa i suoi genitori addormentati sua madre sulla sinistra vicino alla vetrata che si affaccia su via Celentano mentre suo padre è sulla destra sceglie di andare prima a sinistra e con estrema freddezza sferra una coltellata al collo di sua madre la donna non si accorge di nulla non fa in tempo muore subito e le sette coltellate che seguono sono un vero e proprio spreco di tempo e di energia Franco a questo punto si sposta verso destra suo padre prova a difendersi ma si è appena svegliato da un sonno profondo e dopo tre colpi parati con gli avambracci il quarto lo colpisce dritto al cuore Franco però non si ferma e lo colpisce altre tredici volte Franco completamente coperto di sangue sta lì a guardare i corpi straziati dei suoi genitori c'è sangue ovunque anche dalla sua mano destra la gocciola del sangue probabilmente avrebbe colpito anche più volte suo padre se il manico del coltello non si fosse staccato dall'anima di ferro che vi era alloggiata cadendo a terra rimbalzando lontano Franco a questo punto esce dalla stanza e va verso la cucina dove cerca uno strofinaccio per tamponarsi i tagli che si è procurato alle dita di una mano nel frattempo la voce di Giulio gli arriva alle orecchie dice Franco che succede? Franco perché non sei a letto? Mamma? Franco gli risponde dalla cucina dormi Giulio non è successo niente Giulio però continua a parlare a questo punto inizia a chiamare sua madre Franco a questo punto commenta ad alta voce adesso arrivo anche da te basta mentre avvolge lo strofinaccio sull'anima di ferro del manico del coltello si dirige dunque verso la sua camera che è anche la camera di Giulio Franco colpisce suo fratello Giulio con 38 coltellate solo a questo punto Franco inizia ad assaporare un minimo di felicità tutti quella sera hanno saldato il conto della sua vita le sue inettitudini le sue patologie vere o false le sue frustrazioni finalmente sono andate in pari e suo fratello l'ha pagata cara perché secondo Franco era privilegiato in quanto nessuno si aspettava niente da lui ora Franco per coco si sente finalmente libero per nulla preoccupato o turbato dalla sua mattanza si stende sul letto ormai sono le tre passate e si addormenta non sogna nulla si sveglia verso le 5 si alza dal letto e si mette a sedere guarda suo fratello Giulio è senza vita di fronte a lui e l'immagine lo disgusta Franco pensa è incredibile mio fratello è in grado di farmi incazzare anche da morto poi si tira su di scatto e trascina il materasso con suo Giulio nella camera di suoi genitori mettendolo ai piedi del loro letto subito dopo Franco ovviamente cerca tutti i soldi presenti in casa trovando la pensione di suo padre ritirata qualche giorno prima poi prende tutti i gioielli che sono presenti in casa sfilando anche le fedi dalle dita dei suoi genitori a questo punto esce dalla camera e la sigilla avendo cura di passare su ogni fessura della porta delle larghe falde di ovatta imbevute dal profumo di sua madre che alla fine salda con del nastro da imballaggio marrone chiude la porta chiave e per le sei si fa una doccia calda il pigiama totalmente macchiato di sangue così come il coltello senza il manico e alcuni stracci con cui si è pulito Franco li ripone in una scatola di scarpe che mette sulla veranda interna della cucina da cui recupera una scopa e una pezza con cui pulisce il pavimento di camera sua e il pavimento del corridoio alle 7 e meno un quarto la casa profuma di detersivo e Franco profuma di sapone intanto sul fuoco c'è già una caffettiera che borbotta il ragazzo seduto accanto al fornello si accende una sigaretta riflette un attimo finalmente si sente felice per davvero a questo punto Vittorio in carcere si sveglia madido di sudore si tira su con i gomiti e guarda i suoi compagni di cella ossia Francesco Asselta e Vincenzo Carmarossa Vittorio dice ho fatto un sogno mio fratello Franco sterminava tutta la mia la nostra famiglia con un coltellaccio Francesco Asselta rimane in silenzio poi si gira e lo guarda commentando ma non potevi sognare la Loren scusa dai alzati sono le 7 tra un po' passa il controllo è domenica 27 margio e Franco deve fare una gita sul Gargano con Tina la sua fidanzata e il suo amico Massimo Boccasile Franco per le 7 esce di casa passa a prenderlo Massimo e lo trova raggiante quasi felice cosa che non gli era mai capitata Franco non era mai felice almeno fino a quel giorno i due passeggiano percorso Cavour verso l'autonoleggio e per 400.000 lire affittano per l'intera mattinata una Fiat 1100 Belvedere con la quale alle 8-20 passano a prendere Tina che già li aspetta affacciata al balcone in via dei Rossi Tina sale in macchina e i tre partono per Fasano in direzione opposta a quella del Gargano ti viene scartato perché è troppo lontano e mal collegato dal capoluogo detto che Tina avrebbe dovuto essere a casa al massimo all'una e mezza ed è in effetti a quell'ora che tornano a Bari quella sera Franco è rimasto solo in casa prova a non pensare a quello che aveva fatto ogni volta che riaffiorano le immagini confuse della mattanza prova a pensare ad altro non lo aggredisce alcun cenno di pentimento ben si chiama un bar lì vicino e si fa portare in casa un panino col crudo e tre bicchierini di cognac quella notte dorme come un angioletto e la mattina seguente dopo aver controllato che i sigilli della porta non si fossero mossi scende in strada con in mente una sola cosa da fare ossia shopping va al negozio scoccia e compra vestiti per un valore di 18.900 lire pranza con Vincenzo Bellomo in un ristorante chiamato Radar e per giustificare la sua grande disponibilità economica dice all'amico che i suoi genitori sono partiti per Montecatini Terme lasciandogli dei soldi Vincenzo a questo punto propone a Franco data l'assenza dei suoi genitori di portare Tina e sua sorella Angela a casa sua i due si dono appuntamento alle 17 di quel pomeriggio Vincenzo e Franco quella sera si ubriacano a casa di quest'ultimo mentre le due ragazze bevono solo delle granite nei giorni seguenti Franco va al cinema con Tina e passa molto tempo con lei cena ogni sera da solo al ristorante Radar e si compra una macchina fotografica da 10.000 lire una sera riporta Tina Vincenzo ed Angela di nuovo a casa sua e sia Vincenzo ed Angela in cucina che Franco e Tina nella camera del ragazzo hanno un rapporto intimo i giorni seguenti Vincenzo chiede a Franco un materasso per stare più comodo durante i rapporti con Angela e quindi Franco decide di recuperare il materasso di Giulio che è in camera dei suoi genitori con sopra il corpo senza vita del ragazzo ma d'altro canto Franco pensa che quello sia il materasso meno sporco e maleodorante lo riempie di polvere di sapone per pulire le macchie lo strofina con una spazzola e infine lo avvolge in un lenzuolo pulito e in una coperta di lana per far sentire il meno possibile l'odore i quattro ragazzi continuano per diversi giorni ad avere rapporti a consumare alcolici a casa di Franco nei primi giorni di giugno Franco organizza una festa a casa sua invita tutti i suoi amici e spende 13.000 lire tra bevande alcolici e un giradischi nei giorni successivi diversi vicini iniziano ad avvertire l'odore non troppo piacevole presente nella camera dei suoi genitori iniziano quindi a bussare alla sua porta per chiedere se effettivamente il tanfo provenisse da casa sua mentre la vicina di casa si lamenta in continuazione del via vai che c'è a casa di Franco ogni giorno negli ultimi tempi Franco a questo punto entra nella stanza dei suoi genitori sa che c'è una crepa molto profonda sul muro e quel muro tra l'altro confina con un'altra camera da letto convinto che quella crepa sia la motivazione della diffusione dell'odore Franco spruzza abbondantemente nella fessura un deodorante per ambienti al gelsomino poi incastra dentro dell'ovatta e lo chiude con del nastro adesivo quella stessa sera Franco cosa fa? decide di partire basta rimanere a Bari dopo aver passato la serata continua prende un treno per Napoli a mezzanotte 40 alle 9 in punto Franco sta passeggiando per il centro di Napoli pensando a Maria Panebianco che in effetti è l'unica ragazza di cui si sia mai innamorato l'aveva conosciuta anni prima in una casa chiusa a Bari ma era dovuta ripartire per Napoli a causa di sua mamma che era in fin di vita poverina Franco si chiede che fine abbia fatto se la immagina sposata magari con dei figli magari non vive neanche più a Napoli Franco non può certo sapere che Maria non si è mai spostata da Napoli e non si è neanche mai sposata e a dirla tutta è esattamente a due passi da lui Maria infatti è malata di tubercolosi e da ormai un anno e mezzo giace in un letto dell'ospedale Pellegrini ed è ormai in fin di vita Franco prende una stanza all'hotel Ferdinando ma prima di barricarsi in camera come al solito compra della biancheria pulita una cravata di seta azzurra e una camicia bianca con dei gemelli d'oro compra anche una saponetta e della brillantina profumata alla vaniglia si ferma in un bar a far colazione e infine va in hotel entra nella sua stanza si fa una doccia calda ma non riesce a togliersi dalla testa l'idea che Napoli non sia la città più giusta in cui nascondersi per un plurium forse è meglio un centro più piccolo pensa Franco o ancora meglio un'isola dalla quale sarebbe stata più agevole la fuga verso nuovi paesi in cui potersi rifugiare facendo finta di scordarsi tutto rincominciando una vita nuova a questo punto Franco si riveste e scende nella hall dell'hotel e va a pranzare al ristorante Cirio e proprio accanto al suo tavolo c'è una famiglia che sta festeggiando la prima comunione di una bella bambina bionda i napoletani in festa vedendolo solo lo invitano a unirsi Franco inizialmente lo fa contro voglia ma alla fine sta lì con loro per due ore buone mangia un sacco di babà alla crema beve un sacco di limoncello e poi sfatto di cibo e di alcol si avvicina alla bambina che sta festeggiando e le regala 50.000 lire inizialmente tutti rimangono perplessi ma alla fine tutti si tranquillizzano facendo un brindisi a Franco e a tutti i baresi come lui l'ultimo briciolo di lucidità Franco lo dedica a raccogliere informazioni sui traghetti che da Ischia partono lasciandosi indietro l'Italia Franco scopre che di traghetti ce ne sono tre uno va in Corsica un altro in Sardegna e un altro in Marocco Franco quindi si dirige ad Ischia e resta nell'hotel Felix per tre giorni fino al 9 giugno in questi tre giorni Franco fa parecchie cose ma non si informa per gli orari dei traghetti piuttosto una mattina decide di farsi accorciare barba e capelli quindi entra in un salone si siede e nell'attesa afferra un giornale lo apre lo sfoglia e trova la sua faccia stampata sulla pagina dedicata alla cronaca Franco si tuffa nella lettura di quell'articolo in cui appaiono anche le foto del suo balcone e le foto di sua madre suo padre e di suo fratello Giulio ma che cosa è successo? facile la mattina seguente alla sua partenza un vicino ha nuovamente bussato alla porta di Franco non ricevendo risposta quindi dopo aver atteso fino a sera ha deciso insieme ad un inquilino del terzo piano di andare a fare denuncia presso il comando dei carabinieri di San Ferdinando a Bari i militari avevano forzato la finestra e anche la porta della camera dei suoi genitori leggendo l'articolo Franco apprende che oramai tutti sanno tutto i baresi sono già nel panico più totale la sua faccia appare già ovunque e due tizi peraltro hanno rischiato il linciaggio perché sono stati scambiati per lui Franco comunque continua a leggere quell'articolo e scopre che lo stanno cercando a Milano molti pensano che si sia arruolato nella legione straniera inoltre l'articolo dice anche che Vincenzo Bellomo Angela e Tina sono stati tirati in ballo come assidui frequentatori di casa sua dopo il massacro Franco a questo punto ha una certezza è famoso la sua altalena emotiva torna a puntare in alto il suo nome sarebbe risuonato per sempre evocando terrore e morte Franco è convinto che sarebbe entrato nel linguaggio comune come carta penna o latte e in effetti Franco è stato per anni protagonista di un modo di dire ossia e chi sei tu Franco per cocco si diceva per descrivere un atteggiamento efferato e per chiunque mostrasse segni di squilibrio Franco a questo punto torna in albergo decidendo che quella sera al massimo l'indomani mattina sarebbe partito per il Marocco e lì avrebbe studiato il da farsi tanto lo cercavano a Milano Franco pensa che il tempo per godersela ce l'ha ancora non pensa neanche per un attimo che l'idea di aver dichiarato che lo cercassero in Lombardia potesse essere in realtà un tentativo di depistaggio per farlo stare tranquillo e fargli la sorpresona al momento giusto Franco a questo punto si sposta in un altro albergo di Ischia che si chiama Giusto si registra con il suo nome e guarda dalla finestra della sua camera i traghetti che partono pensando che la mattina dopo alle 5 su uno di quei traghetti ci sarebbe salito anche lui la sera Franco scende nella hall dell'hotel e ordina un cognac mentre la televisione in bianco e nero manda in onda la trasmissione lascia ora doppia condotta da Mike Buongiorno l'uomo inizia a guardare la trasmissione e a sorseggiare il suo cognac a fine bicchiere cerca di ordinarne un altro ma non fa in tempo perché si sente toccare su una spalla Franco si gira e vede due agenti di polizia più un uomo vestito in borghese uno di loro chiede lei è Franco per Coco? Franco risponde solo con due parole ossia vi seguo Franco viene arrestato a Dischia la sera del 9 giugno 1956 e viene ricondotto in Puglia all'alba dell'11 giugno successivamente viene processato e condannato all'ergastolo con sentenza del tribunale di Bari il 12 luglio del 1958 il 12 dicembre del 1960 l'ergastolo di Franco per Coco viene commutato in 30 anni di detenzione il 16 dicembre dello stesso anno quindi pochi giorni dopo Franco presenta un ricorso per ottenere un ulteriore sconto di pena essendogli ormai è stata riconosciuta la semi-infermitamentale il 2 marzo del 1961 ritira il ricorso accettando la pena che gli è stata inflitta dei 30 anni ne sconta poco più di 20 e nel gennaio del 1977 viene scarcerato senza alcuna pendenza con la legge avendo passato anche alcuni periodi nel manicomio criminale di Aversa dal quale viene rimosso perché è giudicato sano di mente Franco si trasferisce prima a Napoli e poi nel 1981 a Torino dove si sposa e trova lavoro come impiegato muore il 14 febbraio del 2001 a Torino dove viene sepolto suo fratello Vittorio lo segue il 9 luglio del 2002 ma a Mondovì in provincia di Cuneo la casa dei Percocco dopo la mattanza non è più stata abitata nessuno ha mai voluto vivere in quell'appartamento il palazzo infatti è stato abbattuto negli anni 80 e oggi al civico 12 c'è un'attività commerciale Vincenzo Bellomo e Angela Tezzi si lasciano e lui dopo essersi laureato si trasferisce a Roma dove lavora come libero professionista si sposa con un'altra donna e muore nell'ottobre del 2010 anche Angela si sposa ma ben presto rimane vedova torna quindi nella casa paterna in via dei Rossi dove ad attenderla c'è sua sorella Tina che invece non si è mai sposata sono entrambe morte Angela nel 2002 Tina nel 2004 Franco Percocco è autore della prima stage familiare italiana del 900 questo caso ha avuto una grande risonanza mediatica e ha profondamente impressionato l'opinione pubblica Franco peraltro ha un altro macabro primato nessun omicida aveva convissuto così a lungo con le sue vittime non mostrando alcuna ansia ma anzi evidenziando un insolito buon umore durante il processo a quanto pare non emergono forti motivazioni che abbiano spiegato il suo gesto e la chiave di volta viene individuata nelle tare genetiche accumulate nel suo DNA e alla pressione costante a cui lo avevano sottoposto le aspettative dei suoi genitori ragazzi ho finito di parlare in questo video vi lascio qui e nell'info box il libro che è stata la mia fonte principale insomma ve lo lascio qui come con la copertina ma vi lascio anche nell'info box magari il link ad amazon se per caso volete comprarlo la storia è un sacco macabra per quanto sia interessante secondo me Franco soffriva di veri e propri attacchi di panico il fatto che sudasse che iniziasse a sentire le voci delle persone ovattate che iniziasse ad avere dei giramenti di testa insomma in alcuni casi a me è sembrato che Franco soffrisse semplicemente di attacchi di panico o di ansia da prestazione ma non mi spiego i forti mal di testa e i forti giramenti di testa voi ne sapete qualcosa di più? se ne sapete qualcosa di più fatemelo pure sapere qua sotto nei commenti conoscevate questo caso? fatemi sapere sempre quello che volete qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non fate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.